Buonasera a tutti, stavo pensando appunto alla parola brand, visto che è il doppio di questa intervista americana, la parola brand ha impazionato un po' gli ultimi anni, quindi il brand per Venezia è una parola molto corte, il brand per noi nell'arte contemporanea è il significato che ha la Biennale a Venezia e la Vente Venezia per la Biennale. Per cui mi sono un attimo soffermato su questo binomio, a un certo punto proprio perché siamo un po' abituati a fare sempre le stesse cose, ho pensato ma in che padiglione sono o in che padiglione non ho ancora visto, pensando di essere già in Biennale, mentre la Biennale inizia il primo giugno. E quindi questa forza che ha la componente dell'immagine rispetto anche al luogo. Venezia penso che sia, insieme a poche altre città al mondo, la città che praticamente ha come evento culturale, in particolar modo la Biennale, la possibilità di essere uno degli elementi più importanti, uno dei momenti più importanti al mondo. Certo che noi italiani non ancora penso l'abbiamo ricevuto. Nel frattempo mi ero preparato un aspetto di discorso, anche se mi avevano appunto detto che avrei avuto non tanto tempo eccetera, ma proprio perché è Venezia e proprio perché c'è questo connubio tra Venezia e arte, nel venire dall'Accademia a qui, a un certo punto ho pensato a una storia d'amore, quella tra due personaggi, due miti per me, nell'arte contemporanea, che ci sono conosciuti nella metà degli anni trenta e insieme sono stati mossi da una passione, quella che oggi nell'arte contemporanea si sente sempre meno e si sente sempre più parlare di mercato, di soldi e di economie. Grazie a questa passione, queste due persone, questa passione per l'arte, si sono unite e hanno pensato di aprire una verità in quell'Europa e tutto poteva pensare che essere in procinto di una guerra è la seconda guerra mondiale. Anche qui le analogie sono tante, parliamo di crisi, la crisi attuale e ci appunto, non so, qualsiasi cosa possa succedere è colpa della crisi, ma va bene, questo è la crisi. Pensate un po' agli anni trenta, a due persone che volevano aprire una galleria e che invece nel 1939 Leo Castelli e Elena Sonnaben devono fuggire da Parigi proprio per l'invasione tedesca i bombardamenti e fortunatamente riescono a imbarcarsi e arrivare a New York. Perché dico questo? Perché Leo Castelli è tristino italiano e Elena Sonnaben, rumena, hanno tutte e due l'arte contemporanea, mentre Leo Castelli però a un certo punto è italiano e circondato da quello che poi tutti sanno diventa appunto il suo caralocchiello da popà, Elena ama Venezia come aveva amata anche Penny Guggenheim. E quindi io da ragazzo la prima volta che sono andato a New York, ho voluto andare in questo luogo sacro che era un po' la mecca di allora a New York, era 320 West Grove, era un indirizzo che non si poteva dimenticare, salvo le scale, al terzo piano c'era la galleria Ansonaben, al quarto piano c'era Leo Castelli. E chiaramente due miti assoluti. Il bircio nella galleria di Leo Castelli è molto diverso da quello che siamo abituati a vedere adesso, non c'erano 50 direttori eccetera, c'era lui con quattro assistenti, ma questa persona era una piccola ma il solo vederlo gli faceva un effetto pazzesco perché sapevi che era un italiano ma aveva nel momento in cui conversava, poteva conversare in cinque lingue diverse e potrebbe essere tedesco, francese, italiano, americano, aveva l'impressione che fosse la sua prima lingua. E questo è stato il mio incontro con Leo Castelli, non l'ho incontrato personalmente ma l'ho sempre visto al di là di quello che era il rapporto pubblico visitatore. Altro invece è stato Coniliana Ansonaben dal terzo piano, ormai divorziati dalla sua moglie ma è diventata una sua gallerista amica. Coniliana Ansonaben proprio perché avevamo questo è il video di Fish Device, sono due artisti che hanno vinto la Biennale di Venezia del Leone d'Oro quattro anni fa e proprio perché Iliana Ansonaben mi prese questi artisti e io andai a New York alla loro mostra, incontrai Iliana Ansonaben. Iliana Ansonaben era un personaggio particolare anche perché uno pensa al gallerista come una forma di appassionato mercante d'arte. Ecco, Iliana era più una grande collezionista che per vivere doveva comunque vendere arte. E allora il mio approccio con lei era un po' una montagna rispetto a un topolino ma è l'unica possibilità che mi ricordo e volevo entrare oltre che nella galleria a vedere un po' il retro della bottega, di quello che poteva essere questa stanza dei bottoni dove è nato tutto, tutto quello che noi siamo oggi abituati a vedere, a considerare estremamente caro, estremamente importante eccetera, è nato tutto in quelle stanze lì. E allora siccome mi piaceva la fotografia e sapevo che lei rappresentava Benedì la Becker, che erano due autografi tedeschi, sapevo anche che Benedì la Becker non avevano mercato se non penso che potessero valere qualche migliaio di dollari e mi disse beh, vado a chiedere se mi fanno vedere dei Becker. Entro e in quel momento capisco che se avessi chiesto, non so, un Andy Warhol o un Jasper Jones sarei stato trattato nella stessa maniera. Per cui mi hanno fatto accomodare e mi hanno fatto vedere una trentina dei lavori di Becker, che di voi conosceranno, ma comunque sono degli artisti ripetitivi tedeschi noiosissimi, hanno sempre le stesse torri d'acqua, però sono proprio per questa ossessione sono rarissimi. E alla fine ero storbito, il piano chiaramente non c'era, c'era il suo segretario Antonio. A un certo punto dovevo decidere almeno di sceglierne uno perché avevo passato quasi un'ora di dentro. E ecco che arriva Ileana Sonnabel e mi guarda, mi saluta, guarda tutti i Becker e dice questo è bene, prendi. In quel momento questa persona mi gela e questo fascino di una persona totalmente non affascinante ma aveva questa carica di talento e di passione e io presi appunto questo lavoro dei Becker. Ecco, dico questo perché più volte l'ho vista a Venezia, abitava vicino a Campo Manin e approfittava della Biennale per spendere un paio di mesi prima Venezia e penso proprio che l'Italia debba capire, Venezia debba capire che sono passate da questa città, da questa nazione, delle persone importantissime che hanno fatto dell'arte, dell'arte contemporanea, molto più di nazioni che economicamente possono di più delitarle. Questa era una parentesi che purtroppo volevo farlo. Questo gattino lo porto sempre con me, io non riesco a lavorare con il powerpoint, che è comunque un'opera d'arte, quasi un fischio di rice, come ho detto che hanno vinto il leone d'oro, sempre con cose di questo genere, ma 100 domande inutili che vengono proprietate nel pardiglione Italia alla Biennale. Questo gattino è stato esposto, per dire, a Times Square dove c'è un grande billboard della Sony e insieme a tutte le pubblicità il comune di New York aveva dedicato alcuni minuti della pubblicità, dovessero interrompersi per mettere l'arte contemporanea. È iniziato Kiteri e poi si è studiato per il social di tutti ed è passato poi a questo music di Fish and Life. Questo era circondato chiaramente da, come conoscete, Times Square, migliaia di pubblicità di consumo, per cui questo confronto mi sembrava anche abbastanza forte, perché quasi a tutte le conferenze me lo porto dietro. Inizio con quello, un po' che era il programma di questa conferenza. Tutto quello che vuoi, almeno, se metteva a sedi. Aspetta un po'. Guarda che bello a sedi, ho le tasse di qui, c'era lui a pianta, ma che cosa da bimbi? E come no? Via quel che pagliotella, la pirezza questa è quello che troveremo. Sì, sì, quello che sciamo via. Tu stai qua, non ti muove, eh? E dove vado? Stai bene? Sì, è un bel petito. No, ritrovo subito. Scusi, io non riesco a trovare, non c'è una mensa, un bar dove si mangia e si beve? Sì, è al dritto, ed è qua fuori a destra. Non ho capito che... Ah, fuori dalla porta, a destra. Ah, fuori dalla porta. Da dritta, dici? Ma come vanno questi? Sì, sì. Un tratteggio moltiforio. Guarda. Allora, sedi con un corpo adegiato. Un'opera più lente? Un'opera originale, cara. Io so i 18 milioni, la conterei. A me mi sembra bello. Vedi quel corpo, sembra una sfera che prima si sprofonda verso il basso, e poi si inalza piano piano come sospinto dal vento che muove la palma. Allora, a me mi ha piantare c'era una niente, la magna, c'erano solo sti barattoli. Bevi, è fresco. Porca mignotta! La mi sembra, la mi sembra, la mi sembra, la mi sembra di fotografare. Chi? Questa è la mia signora. Che fotografare? Allora io lo potevi dire tu. E chi le lo dì? Che non sei rassata. Che amica la donna nuda questa? Allora, non lo compravi 18 milioni. 18 milioni? Beh. Asso, ma è troppo. Abbiamo ribaltato un po' dove, perché questo va a essere il finale, però forse l'avete riconosciuto. Il film è racconto in Italia, come è questo episodio di Alberto Soli e la moglie ha la minaccia. Altra cosa che volevo, non è una tele vendita, ma questo elemento qui, forse, forse, come designer, non so chi l'abbia inventato, però il termine scocciare è un termine che, secondo il vocabolario Zanichelli, vuol dire addombrato, incollerito, indispettito, sfissito, no? E poi c'è l'uso comune di questo scotch, dove noi galleristi usiamo scocciare, imballare i quadri. Senza di questo, ovviamente, un gallerista, e forse un po' di storia dell'arte, non potrebbe esistere, è un elemento minimo, ma di quelle che non potrebbero mancare. Però queste due possibilità di significato, scocciare, appunto essere incollerito, e adesso non voglio entrare in questo merito di questo primo significato, però ce n'è da essere incolleriti nel mondo della cultura italiana, quando si sente che un direttore di museo con appena sei mesi di attività si deve dimettere. Si è un po' incolleriti nel vedere che una Biennale di Venezia in un padiglione Italia, ancora non sappiamo come andrà a finire e quanti migliaia di artisti sono invitati in questo padiglione. Quindi diciamo che per scocciarci in Italia ne abbiamo un bel po'. L'altro termine, scocciare, e forse potrebbe risolvere il primo, perché io sono residente di un'associazione, quella Start Milano, dove ho tentato di scocciare proprio tra di noi, unire, quello che in americani chiamano una sorta di big network, o prima in qualche conferenza politica si diceva fare sistema, questo incollare personaggi e professioni, proprio perché penso che riuscire a condividere la propria professionalità e non mantenere l'individualismo, l'individualità anche eccellente, che è anche talentuosa, che però viene sopraffatta da economie molto più forti. Leggevo il libro di Bruce Chappie dove paragona il momento dell'asta d'arte in un momento quasi di rituale liturgico, dove c'è chi celebra questo rituale, dove c'è questa cosa da sacrificare e dove ci sono tutti fedeli e poi ci sono pochi eletti che possono arrivare ad avere quel pezzo fino al momento in cui finalmente uno riesce ad averlo. Questo tipo di liturgia, questo tipo di economia, economie forti, il denaro, riescono oggi a razzi più forti di quelle che sono le passioni di Uniliana Sonagher, nel mio castello, o di individui che sono i galleristi, che ogni giorno insieme agli artisti creano le possibilità di una cultura sul contemporaneo. Io credo che questo è la cosa che debba scocciare di me e riuscire a scocciare tutti. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie.